Termete, padrone di Brufa. Don Giuseppe, il significato di questa festa, ma non tanto la festa patronale, quando Torgiano ormai ha tre, quattro, cinque santi? Sì, è vero, abbiamo quattro patroni nel mese di agosto, è la nostra unità pastorale. Tuttavia, questa volta, a San Termete, che ha dato la vita per Cristo, ho voluto dare un significato di ricordo e di presenza di tutti coloro che in questo tempo stanno dando la vita per amore di Cristo. Anche noi siamo chiamati non solo a ricordarli, ma a poter vivere vicino a loro e a testimoniare la nostra fede in questo mondo con coraggio. Don Giuseppe, questa è la parte religiosa, però abbiamo visto tanti personaggi intorno a questa processione. C'era Bottini, segretario del PD, il sindaco Nasini, che portava addirittura sulle spalle San Termete. No, io devo dire che non faccio un giudizio di queste cose, ma tuttavia mi sembra bello che i santi riescono a mettere in armonia tutti gli uomini di varie tendenze politiche, economiche e sociali. Un sindaco vicino alla propria comunità, addirittura a portare la stadio di San Termete sulle spalle? È una giornata importante per me, sono qua con grande entusiasmo, ma diciamo che sono quelle serate che restano nella vita. Io sono ormai decenni che sono a portare il santo e mi trovo oggi a portarlo anche come sindaco, tant'è che come avete visto ho assistito alla messa con fascia per rappresentare la comunità di Torgiano, che ho voluto rappresentare qui a Brufa, questo mio paese che mi ha visto crescere. E poi in processione ho messo la mia Dei Sustinentis, perché è una cosa, un'appartenenza a un'associazione che siamo vicino alla chiesa, vicino al parroco e devo dire questa sera grazie, grazie a Don Giuseppe, a Pier Giorgio, al professor Pier Giorgio, a tutti i miei colleghi del Sustinentis, perché hanno fatto una serata veramente importante. La prologo, la prologo questi bei fuochi, questa festa, è una serata grande per Brufa, ma una serata grande che si accompagna alle altre grandi serate che abbiamo fatto per San Bartolomeo e per tutte le manifestazioni estive di Torgiano. È una comunità importante che opera con molta volontà, con volontariato e abbiamo grandi risultati. Grazie a Torgianesi, il sindaco è fiero di voi. Signor sindaco, non si erano mai visti tanti politici a queste processioni, vinti dietro San Bartolomeo, Bottini dietro Sant'Emerete? Ma forse in un momento come questo, in cui la politica e i partiti devono riflettere sulla loro identità, penso che gli accomuna una cosa, guardare in alto verso qualcosa di superiore. Tanta gente perché è una cosa particolare, sentita dalla gente, da tutte quelle persone che negli anni sono partiti per vari motivi da Brufa, che in qualche modo ritornano proprio per questo appuntamento molto importante. Il 27 agosto tutti vengono proprio perché è un appuntamento importante per venire la cascata del Campanile. Veramente una cosa non da tutti i giorni, una cosa che è veramente molto particolare. Senta Presidente, Sant'Emerete ha avuto anche il merito, ha fatto il miracolo di raccogliere tutto l'arco costituzionale politico dietro la processione. Il sindaco Nasini che portava la statua, Bottini dietro, ha fatto un miracolo? Sì, veramente sì, ha fatto un miracolo. Diciamo che il sindaco, diciamo che uno lo sapeva che era presente alla processione perché anche uno fa parte anche di Sostinentes, però Bottini è stata una sorpresa, insomma, aveva anche il segretario regionale nel partito del PD. Diciamo che Sant'Emerete si vede che ha fatto una grazia quest'anno, ha portato a Brufa un po' tutti i politici regionali. Politici che hanno bisogno di Sant'Emerete? Sì, penso tanto. Dal sindaco al segretario regionale del PD penso che hanno tutti bisogno di Sant'Emerete perché veramente gli faccia una grossa grazia, perché ne hanno bisogno per andare avanti.